Musica Allora siamo qui con Lorenzo, ancora una volta a Ganaticos, il Palmares incomincia a crescere piano piano Pian piano aggiungiamo un trofeo dietro l'altro, siamo molto contenti innanzitutto per il presidente Fuse e poi oggi devo dire che sono i Lazze che sono entrati dalla panchina, hanno fatto un'ottima partita come primo trofeo siamo molto contenti, è stata una bella partita combattuta, penso che alla fine ce la siamo meritata Ecco, una partita che fino all'ultimo minuto non aveva ancora dato un vincitore forse all'ultimo che eravate in svantaggio di due gol avete messo quel pezzo di cuore in più Sì, poi abbiamo fatto in realtà due o tre rimonti, siamo stati due o tre volte sotto di due gol quindi vuol dire che la squadra si è impegnata per recuperare il risultato, ha giocato molto bene, ha meravigliato la vittoria continuare ad andare sotto ogni volta di due gol appena si pareggia non è ovviamente semplice, siamo decisamente contenti Allora io vi faccio i complimenti e immaginino che stasera andrete a festeggiare Saremmo andati comunque ma festeggeremo di più Buon festeggiamento Grazie